La mensa della solidarietà a Bagheria La mensa della solidarietà a Bagheria Quindi non si tratta soltanto di avere un pasto caldo ma di avere anche una persona che ti possa accogliere e che ti possa dare una parola di conforto? Certo è importante questo, noi guardiamo alla persona umana globalmente nelle sue esigenze fisiche e quindi anche il bisogno materiale del cibo ma soprattutto il bisogno di affetto, il bisogno di relazionarsi, il bisogno di sentirsi amata. Bagheria è ormai possiamo dire una città, ci sono diocesi poco più grandi in Italia di Bagheria che hanno strutturato dei servizi polivalenti come anche quello della mensa per i poveri e quindi ben venga che Bagheria così come ormai da tempo era stato programmato possa aprire una mensa per i poveri. Grazie! Grazie!